Proseguendo questo percorso che abbiamo iniziato nei nostri studi con il Vice Sindaco Andrea Assenti per questa candidatura alla Regione Marche, come argomento Andrea hai scelto il Ballare, anche perché è un qualcosa sul quale stai lavorando da tanto tempo e da quello che mi stai dicendo fuori intervista ci sono delle novità che vuoi giustamente snocciolare a chi ci ascolta. Ma sì grazie innanzitutto buongiorno a tutti, però le novità quali sono? Sono i tempi tecnici che noi di esecuzione dei lavori che abbiamo promesso prima dell'estate e che abbiamo iniziato a fare, quindi come potete vedere abbiamo iniziato da questo splendido parcheggio sull'area nord, adesso dobbiamo intervenire sull'area ovest e quindi la messa in sicurezza o meglio l'ottimizzazione, la valorizzazione del muro ad ovest e quindi noi il 23 novembre presumibilmente come data certa avremo i soldi necessari per fare questa gara e quindi per sistemare tutto il lato ovest del Ballarin. Ovviamente proseguiremo successivamente a questo intervento alla demolizione della curva nord e della tribuna est per il miglioramento di tutta quest'area e nelle more. Nel frattempo invece sposteremo quella che è la cabina Enel da Enel Energia che si trova, è situata sotto il lato est-sud della tribuna e la sposteremo esattamente in questa parte, quindi sul lato nord. Quindi fatto questo ulteriore adempimento burocratico con l'Enel possiamo partire con la riqualificazione dei lati che così come vi ho detto. Ecco Andrea c'è qualcosa anche perché sai che furono fatte in tempi non sospetti delle riunioni con dei comitati per promuovere quello che poteva essere questo stadio in futuro e tu sai che c'è anche il presidente della Samba attuale, Franco Fedeli, che parlando con voi in amministrazione, con te, con l'assessore allo sport e con il sindaco Piunti chiese anche se c'era la possibilità di poter avere questa struttura più che altro per far allenare le squadre minori della Samba che giustamente come sai non avendo altre strutture deve sempre cercare alle varie società limitrofe. Ma noi ovviamente abbiamo parlato con tutti e continueremo a farlo come sempre, tant'è che finita questa fase, chiamiamola 2, delle curve e delle tribune avremo sicuramente la fase 3 che è quella della decisione definitiva da prendere sul campo, quindi che cosa ne faremo del campo e di tutta la zona. Questo ovviamente sarà fatto insieme a tutti gli attori, i primi attori, quindi tra i quali potrebbero essere sicuramente anche il presidente della Samba o comunque il comitato di quartiere, i progetti che sono stati presentati, così come dice sempre anche il nostro sindaco non vogliamo escludere alcuno dalla competizione e dalle ipotesi e dalle proposte, quindi sicuramente le riprenderemo per cercare una soluzione unanime che possa vedere finalmente riqualificata questa zona. Grazie e buon lavoro. Grazie e buon lavoro a voi, grazie mille.